Intervento nella strada di mercoledì 21 giugno intorno ai 19.30 in frazione Vesignano a Rivarolo Canavese. Qualcuno ha allertato i soccorsi dichiarando che c'era un cane in acqua in difficoltà. Sul posto sono arrivati l'elicottero Drago 51, i suoi mozzatori e i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, che hanno trovato il proprietario sul ciglio della stradina che teneva il cane per il guinzaglio sul muretto del terrapieno. In pratica poco prima era sul fondo del canale dove non c'era la recinzione e il cane si è avvicinato a bere, sporgendosi troppo e caduto in acqua. A quel punto il proprietario è riuscito entrando un po' in acqua anche lui a riprendere il guinzaglio e a seguire il cane trascinato dalla corrente fino al muro del troppo pieno. I vigili del fuoco hanno svitato parte della recinzione e hanno fatto uscire il cane per poi rimetterlo a posto. Grazie. Grazie. Grazie.